Sono Edoardo Tresolli, faccio lo scultore, realizzo delle sculture utilizzando il linguaggio dell'architettura per raccontare la relazione tra l'essere umano e lo spazio circostante. Con la trasparenza le mie opere riescono a raccontare la relazione che c'è tra il disegno architettonico e lo spazio naturale circostante. La mia opera, come tutte le sculture, come tutte le architetture, si vive attraversandola sostanzialmente. Accoglie le persone nel fermarsi su uno sguardo, su un'osservazione, sul dedicare un po' più tempo a una contemplazione delle cose, a un fenomeno, a un raggio di sole piuttosto che un albero. Esprime proprio questa necessaria e forte relazione che c'è tra noi, la nostra società e l'ambiente circostante, l'ambiente naturale. Sono molto orgoglioso e contento che il mio lavoro sia stato scelto per inserirsi all'interno di questo progetto per raccontare concetti di ensamboli. Penso che Sacral, negli spazi di Precatelan di Casitalia, sia nel posto giusto.